Maltempo in Veneto al punto nella sede della protezione civile a Marghera ha dichiarato lo stato d'emergenza. Nelle prossime ore si sposterà verso il Veneto orientale allerta fino alle 14 di domani. Precipitazioni intense in Veneto orientale tra le 4 e il 6 del mattino caduti 100 mm di pioggia al lavoro tutta la notte i tecnici del consorzio di Bonifica. È intervenuto anche l'elicottero dei vigili del Cuoco di Mestre per salvare i quattro passeggeri di un'auto finita in un fossato colmo d'acqua a causa maltempo a Corso Gruaro. All'indomani della chiusura delle indagini della procura emergono nuovi dettagli sconcertanti sul piano messo in atto da Filippo Turetta per uccidere l'ex fidanzata Giulia Cecchettin. Nuovo post del Vescovo in merito di Chioggia Monsignor Tessarollo per criticare la scelta di Laria Salis di andare in Ungheria poteva frezzare a casa sua, ha detto. Ma sì, sequestro di elici durante un controllo della Polizia Marittima della Capitaneria di Porto di Chioggia in una ditta di Porto Viro. 55 quintali sequestrati. Studenti a lezione di sviluppo sostenibile all'Istituto Algarotti di Venezia dove si è svolto l'appuntamento di missione ambiente per avvicinare i giovani al tema della sostenibilità. Buonasera, bentrovate, bentrovate edizione di Venezia dei telegiornali di Antenna 3. Il maltempo in primo piano in apertura del nostro telegiornale. La regione ha dichiarato lo stato d'emergenza. Onestamente un'alluvione a metà maggio non è che ce l'aspettavamo perché tale è e siamo in un momento di oggettiva difficoltà. Per questo la regione ha aperto l'unità di crisi e dichiarato lo stato d'emergenza. Quindi entriamo ufficialmente in quello che è il protocollo operativo di un'alluvione vera e propria. Abbiamo la bassa Padovana, abbiamo la zona del Vicentino, una parte della provincia di Verona e quindi fenomeni che sono distribuiti soprattutto in queste zone. Troppa acqua caduta in poche ore, tanto da rendere necessaria per la prima volta l'apertura di tutti i bacini di laminazione. Autentico disastro, mai abbiamo messo in funzione tutti i bacini di laminazione. Sei bacini in funzione, cinque in provincia di Vicenza, uno in provincia di Verona che è la Colombaretta e dà la dimostrazione dell'intensità della pioggia. In poche ore tanta acqua, abbiamo raggiunto una punta di 229 mm e se non avessimo avuto i bacini oggi avremmo i gommoni in giro per Vicenza invece che le auto. I modelli previsionali dicono che l'allerta non è finita almeno fino alle 14 di venerdì. Abbiamo centinaia di situazioni di allagamenti, quindi di frane, di sesti e soprattutto non è ancora terminata l'ondata di maltempo perché per le prossime ore sono previste precipitazioni cospicue sia in aree che non sono state interessate ieri sia in aree che invece sono già state stressate nella giornata ieri. È previsto che i fenomeni meteo interesseranno anche la parte che ieri è stata risparmiata, quindi la parte orientale del Veneto, diciamo provincia di Belluno, provincia di Treviso, provincia di Venezia. Però ci ricordiamo anche, dobbiamo ricordarci anche del fatto che comunque la provincia di Vicenza, Verona e la bassa Padovana sono state molto stressate quindi anche se dovesse piovere meno di ieri ovviamente la tensione deve essere massima. Ecco perché la raccomandazione ai cittadini è di avere la massima attenzione, prudenza e soprattutto stare lontani da argini e fiumi. A Gruaro adesso dove un'auto che transitava in una strada allagata è finita nel fossato Ricolmo, l'allarme è arrivato verso le 17.15, i passeggeri dell'auto stavano transitando lungo via Nosedo nella frazione di Fossalato di Porto Gruaro quando all'improvviso sono finiti nel fosso Ricolmo d'acqua. La corsa contro il tempo per i soccorritori arrivati anche con l'elicottero di vigili del fuoco di Mestre perché a causa del maltempo la viabilità dell'intera zona era stata interdetta. Noi invece sempre per il maltempo ci spostiamo a Mira perché si è verificato un cedimento della scarpata lungo la strada provinciale 27 tra Mira e Mirano. La città metropolitana di Venezia in accordo con i vigili del fuoco e la polizia locale ha istituito un senso unico di marcia da Mira verso Marano, lo spostamento delle linee di trasporto locale e il divieto di transito ai mezzi superiori alle 3,5 tonnellate. E dunque lo avete sentito, l'avrete anche visto, precipitazioni intense in Veneto orientale tra le 4 e le 6 del mattino sono caduti ben 100 mm di pioggia. In poche ore sono cadute 100 mm di pioggia complessivamente con una punta tra le 4 e le 6 di questa mattina dove in alcune aree del comprensore sono arrivati oltre 30 mm in un'ora, quindi 60-70 mm in due ore. I dati del Consorzio di Bonifica fotografano chiaramente le dimensioni della perturbazione che nella notte ha interessato anche il territorio del Veneto orientale. La pioggia ha colpito in maniera intensa soprattutto la zona costiera ma anche alcune aree del territorio di San Michele a Tagliamento come si vede dalle immagini che riguardano i territori di Cesarolo e Marinella. Abbiamo molte aree delle aree est e ovest del comprensorio a Lagate, zone di campagna e la piazza di Cesarolo, la via conciliazione a Cesarolo. Anche Iesolo con la via Manzoni ha subito un allargamento ma dovrebbero rientrare rapidamente queste esondazioni dovute alla precipitazione intense che in un paio di ore dalle 4 alle 6 di questa mattina hanno scaricato oltre 90-100 mm di pioggia in queste aree che vi ho appena illustrato. Gli impianti hanno funzionato tutti, le quote nei canali sono rimaste seppure elevate all'interno degli alvei quindi non ci sono state esondazioni di canali. Le esondazioni sono dovute proprio a queste bombe d'acqua come oggi si chiamano, questi nubi fragi che hanno creato queste lame d'acqua che si innalzano prima di entrare nel canale e nelle fognature insomma. Non ci sono state situazioni di criticità che hanno riguardato le abitazioni ma per i tecnici sono state ore di attento monitoraggio. Abbiamo tenuto d'occhio tutta la notte l'evolversi della situazione e il centro di telecontrollo verificando che tutti gli impianti funzionassero, i canali fossero efficienti, non ci fossero ostruzioni. Siamo intervenuti con le squadre dei reperibili quando qualche problema di stacco di impianto dovuto a salti di rete eccetera doveva essere recuperato e ripristinato immediatamente. E' proprio a causa di questa forte pioggia che ha interessato tutto il Veneto, la Col di Retti di Venezia ha comunicato che sono centinaia gli ettari di terreni agricoli finiti sott'acqua lungo tutta la provincia ed è critica la situazione di coltivazioni estensive come il frumento le cui piante sono state allettate dal vento forte e dalla pioggia battente. Gli agricoltori che erano riusciti a piantare il mais ora rischiano infatti di perderlo per la sfissia del terreno completamente sommerso dall'acqua e sono inaccessibili anche i terreni per la semina della soia. Dunque questa la preoccupazione della Col di Retti. Chiudiamo questa ampia pagina del maltempo per passare alla cronaca. All'indomani della chiusura delle indagini della Procura emergono nuovi dettagli sconcertanti sul piano messo in atto da Filippo Turetta per l'uccisione della fidanzata Giulia Cecchettin. Tra gli elementi che hanno portato la Procura di Venezia a contestare a Filippo Turetta la premeditazione dell'omicidio di Giulia Cecchettin c'erano anche appunti trovati nel PC del 22enne di Torreglia su come legarla per immobilizzarla e farla tacere. Sono anche state trovate tracce di un programma con cui poteva controllare i suoi spostamenti attraverso il cellulare che non è mai stato ritrovato e poi le ricerche online di corde, badili, manette. Questa è la base della contestazione della premeditazione. Gli elementi raccolti dai carabinieri sono stati a nostro giudizio naturalmente molto importanti e hanno consentito sempre a nostro giudizio di contestare l'aggravante della premeditazione proprio per l'attività che era stata posta in essere prima dell'omicidio e possiamo dire anche parecchio tempo prima dell'omicidio che a nostro giudizio è di organizzazione dell'omicidio stesso. Per la procura Turetta, ora detenuto nel carcere veronese di Montorio, aveva pianificato nel dettaglio l'omicidio di Giulia avvenuto lo scorso 11 novembre con una prima aggressione nel parcheggio di Vigo Novo a pochi passi dall'abitazione della ragazza e una seconda più violenta nella zona industriale di Fossò dove dalle immagini di una videocamera la si vede aprire la porta dell'auto in movimento e provare a scappare, lui che la raggiunge per colpirla alla testa e poi prenderla in braccio e riporla sul sedile posteriore dell'auto dove è morta. Qui Turetta avrebbe infierito su di lei col coltello. Un progetto pianificato almeno quattro giorni prima del delitto con l'aggravante della crudeltà. Ora il suo avvocato Caruso avrà 20 giorni per chiedere un interrogatorio. Ancora alcuni punti da chiarire in primis dove siano la borsa e il cellulare di Giulia Cecchettin. Nuovo post del Vescovo in merito di Chioggia, Monsignor Tessarollo. Questa volta la critica nei confronti di Ilaria Salis e della sua scelta di andare in Ungheria. Il post è destinato al padre della donna, caro signor Salis. Si legge se sua figlia stessa fosse stata a casa senza andare in Ungheria non si sarebbe trovata in questa situazione. Dunque un post che si presta alle polemiche dei prossimi giorni. C'è stato un maxi sequestro di Alici durante un controllo della polizia marittima della capettineria di Porto di Chioggia in una ditta di Porto Viro. Gli accertamenti hanno riscontrato una totale assenza di documentazione su una zona di cattura, metodologia di pesca, identificativo del peschereccio. 55 i quintali sottoposti a sequestro amministrativo. E ora passiamo invece a parlare di sostenibilità. perché gli studenti sono stati a lezione di sviluppo sostenibile e transizione ecologica all'Istituto Algarotti di Venezia. La decima tappa di Missione Ambiente Generazioni a Scuola di Sostenibilità è all'Istituto Algarotti di Venezia. È l'ultimo appuntamento di un'iniziativa che da gennaio ha girato l'Italia incontrando in presenza oltre 800 studenti in un percorso di approfondimento e confronto su sostenibilità, tutela ambientale e transizione ecologica. C'è stata una storica riforma della Costituzione che stabilisce che la Repubblica deve tutelare l'ambiente, le biodiversità e gli ecosistemi nell'interesse delle future generazioni. E questo si intreccia anche con la legge sulla scuola che prevede che all'interno dell'insegnamento scolastico attraversale ci debba essere lo studio della Costituzione, dell'ambiente e della sostenibilità. All'insegna dello scambio intergenerazionale con ampi spazi di dibattito tra esperti aziendali e studenti incontri come questo offrono innanzitutto l'occasione di delimitare il campo di termini e argomenti molto citati ma non sempre completamente conosciuti. Lo sviluppo sostenibile è la capacità di tenere in equilibrio le tre dimensioni economica, sociale e ambientale. Spesso siamo abituati a pensare soltanto alla dimensione ambientale ma in realtà è fondamentale tenere in equilibrio anche le dimensioni economiche e sociali. Se non investiamo sulla transizione ecologica avremo delle ricadute molto negative non solo in termini ambientali ma anche in termini di PIL, di occupazione e di debito pubblico. Dall'economia circolare per quanto riguarda l'ambiente alla parità di genere nel sociale dalle aziende private alle istituzioni pubbliche c'è tutto un nuovo modo di affrontare le sfide dei prossimi anni che chiede di essere conosciuto e condiviso. Quello che io trovo fondamentale è che questo nuovo modo di fare le cose diventi patrimonio collettivo anche all'interno delle scuole aiuti i ragazzi a fare delle scelte consapevoli perché il processo che stiamo mettendo in atto è un processo complicato è una vera e propria rivoluzione e ha bisogno anche quindi di essere compreso. Questa è l'ultima notizia di questa edizione per questa sera ma vi ricordo l'appuntamento a partire dalle 20.15 subito dopo il Tg Treviso per i continui aggiornamenti della situazione del maltempo con i nostri inviati da tutto il Veneto. Vi ringrazio per essere stati con noi per il momento. Buona serata, più tardi. Grazie a tutti.